Pallonate contro il governo, una manifestazione in toni calcistici, quella messa in scena dagli studenti e da rappresentanti dei centri sociali e dei Cobas davanti a Montecitorio per protestare contro la riforma del lavoro. I manifestanti hanno così battuto i calci di rigore, una metafora per dire no al rigore indicato dal governo. Sui palloni la foto di Monti e la scritta no rigore, riforma del lavoro, partita truccata. Poi tutti con il cartellino rosso in mostra per dire appunto Monti vai a casa, sei stato espulso. Monti sei espulso, la sua asferità si fa schifo, stai distruggendo l'Italia. Le aree intorno alla Camera sono state massicciamente presidiate dalle forze dell'ordine anche per l'arrivo a Roma del presidente francese François Hollande. No nos teme l'idà, o cugiavoto tarajità